No, ovvio, non giocando non fa mai piacere, però sono scelte dei misti, sono tutti bravi, quindi a prima occasione spero di fare bene, quindi sono sempre pronto e mi alleno costantemente, quindi appena mi chiamerà, cercherò di essere pronto. Sì, ma io cerco di migliorarmi sicuramente fisicamente, perché poi ogni giorno, giocando ogni tre giorni e poi non giocare comunque un po' perdi, quindi cerco di dare sempre il massimo per tenermi abbastanza in forma e adesso con la sosta nazionale sono tre o quattro giorni qua pesanti, quindi mi serve per restare abbastanza in condizione, quindi va bene così. Allora è ovvio che se non giochi comunque non ti puoi chiamare, solo che hai già fermato il nazionale, secondo due volte sono andato e non giocando sicuramente non mi hai chiamato, però l'importante è che io sto qua al Milan e devo fare bene al Milan, come ho sempre detto, poi il nazionale è una conseguenza, quindi mi è importante fare bene qua al Milan. Io ho dato sempre il massimo e quindi darò sempre il massimo, ripeto, ovvio che poi sono scelte del mister, è un momento anche un po' così del Milan e quindi dare le sue scelte, tirare le conclusioni, io non c'ero in campo, ma ci mancherebbe lui il mister e io ascolto quello che mi dice e se non entro in campo c'è la sua motivazione.